In collaborazione con Glam Vision e K. Fakli Incidente sulla statale 47 della Val Sugana Il rimorchio di un camion finisce ribaltato sulla carreggiata coinvolta anche un'auto Vasto incendio a Kles Rischio crolli nelle palazzine La più danneggiata è la struttura abbandonata di ITEA In chiesta sanità Quanti sono i gettonisti nel pronto soccorso? Ad arco il 50% A trento circa un terzo dei camici bianchi Sanò Il medico d'urgenza non è un tappabuchi Influenza boom di contagi nei più piccoli E in Trentino scarseggiano i sciroppi per i bambini I farmacisti Speriamo la situazione si sblocchi quanto prima Dall'ipoterapia ai prodotti a chilometro zero Ecco a Kles al bersaglio di Carrara La ristoratrice più giovane Fino agli anni 70 ero dei miei nonni Nel 2016 l'ho ripreso io I difetti visivi sono tanti Miopia, stigmatismo, ipermetropia Il pregio è correggerli con occhiali davvero glam Con Glam Vision puoi prenotare l'analisi gratuita della vista E poi sfoggiare i tuoi nuovi occhiali che possiamo creare per te Scopri di più su glamvision.it